Buongiorno, come state? Tutto bene? Eccoci qua per un nuovo video. Oggi è lunedì 1 ottobre e finalmente è arrivato ottobre, lunedì mattina. Io sono qua infatti che sto già facendo la mia colazione prima di andare a lavorare. C'è di chi mi sta dando una mano a preparare Edo perché stamattina lo porta lui all'asilo. E niente, infatti adesso finisco di fare la mia colazione, devo scappare già a lavorare. Mi sono resa conto solo adesso, che è il primo ottobre, che io non ho ancora organizzato niente per il mio compleanno. Perché io faccio il compleanno il 15 ottobre e a quest'ora e gli altri anni avrei già organizzato dove, quando, perché quest'anno ancora niente. Non ne ho la più palida idea né dove farlo né quando farlo, sono senza fantasia quest'anno. Però è meglio che mi dia una sbrigata a decidere a organizzare anche perché devo un po' invitare gli amici, i parenti. Quindi devo organizzarla assolutamente. Devo trovare qualche idea, quest'anno sono proprio senza idee, non so. Beh, ci penserò adesso poi, decideremo. Va bene, finisco davvero di fare la colazione e scappo a lavorare. A dopo, ciao ciao! Allora io sono uscita da lavoro, abbiamo mangiato una cosa in frettissima io e mami e siamo venuti in un posto troppo carino che si chiama Bounce. Guardate, che è pieno pieno di trampolini, faremo un'ora qua di esercizio, tra virgolette. Adesso vi faccio vedere, siamo venuti già la settimana scorsa, è stato troppo troppo divertente, allora siamo tornati anche oggi. Ah, sono troppo contenta di essere qua con mami, con mia sorella, perché come sapete abbiamo abitato a lontane per tantissimo tempo. Adesso poterci divertire insieme, uscire insieme, sembra davvero un sogno. Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Siamo arrivati a casa. C'è un bimbo che appena ha fatto il bagnetto qua. Dini! Hai fatto il bagnetto amore? Sì! Sì! Cosa fai adesso? Ti lavi i denti? Sì! Per fargli lavare i denti uso sempre questo sgabellino qua che abbiamo comprato da Ikea. Dove è la bocca? Che bello, questo bimbo è tutto pulito, tutto profumato. Ci andiamo a vestire? Chiudi l'acqua. Chiudi il rubinetto, così andiamo a vestirci. Andiamo? Sì! Sì! Allora, nel frattempo mi sono fatta una doccia anche io, che ne avevo davvero bisogno. Oggi fa un freddo a Torino, sta tornando proprio il freddo. Infatti sia io che Edo siamo rimessi i calzettoni pesanti, non vedevo nada di metterli, questi qua con le principesse. Ci fai vedere i tuoi calzini, amore? Se anche tu ti sei rimesso i calzini pesanti? No! No? E invece sì, col coccodrillo. Allora, nel frattempo tra una cosa e l'altra si è fatta anche ora di cena, quindi sono già qua, nei fornelli che cucino. Allora, qua sto facendo bollire delle carotine. Sto facendo un mini soffrittino di cipolla per il sugo. Non lo faccio cuocere troppo, non lo faccio soffriggere troppo, in modo da non renderla né troppo cruda, ma né anche troppo bruciacchiata, che non va bene. Allora, oggi uso la passata della Nutty, a questo punto poi lo aggiungo, verso fritto. Allora, adesso vado a infarinare le fettine di pollo. Io uso sempre queste qua tagliate sottili sottili. Ok, dopo averle infarinate le faccio cuocere con un po' d'olio in padella. Ok, a questo punto, dopo che hanno fatto da studio le parti, aggiungo anche il succo di limone. Faccio sfumare così con il succo di limone. Ok, dopo aver cotto circa 10 minuti il pollo è pronto. Anche le carotine bollite sono pronte. Allora, dopo aver cotto circa una quindicina di minuti anche il sugo è pronto. Io al pollo invece me lo sono fatto così alla piastra. E con due forchette, mangi? Sì. Ah sì? Ah, va bene. Buone le carotine? Sì. Bene. Ed ultimamente vuole mangiare solo qua nel suo tavolino. Vuole formaggino? Sì. Allora. Edo non piace la pasta col formaggio. Edo mangia il formaggio con la pasta. Vero, amore? Ecco appunto. Buona buona. Buon giorno. Oggi è già il giorno dopo, martedì mattina. Io e Edo ci siamo svegliati poco fa. Oggi Edo non l'ho mandato all'asilo perché ho 200 commissioni da fare con mia sorella, quindi io ho preferito lasciarlo a casa. Tra poco arriverà mia mamma così sta con lui. E io mi sa che sarò tutto il giorno in giro per commissioni. Oh no. Edo ama questo gioco della pizza con velcro. Sta delle ore con questa pizza. La paletta da pizzaiolo. Che abilità, amore. Sei diventato un vero pizzaiolo. Pizza. Pizza. Cos'è la pizza con le verdure quella? Mia. E' tua? Eh sì, l'hai fatta tu. Sono le verdure sulla pizza? C'è il pomodoro, le zucchine. E poi? Buona? Mmm, che buona questa pizza. Metti nella paletta. E adesso? E' per me? Grazie. Mmm, che buona questa pizza. Io e l'izia. C'è Edo qua che ha appena visto che dovevo fare la lavatrice e ha corso in cucina. Wow. Eh sì. Sei anche un po' arrabbiato perché non l'ho chiamato. Vero amore? Sì, sì. Si è fatto un bel pianto perché ho iniziato a fare la lavatrice da sola. Ma grazie amore mio che mi aiuti. Oh. Grazie mille. Che cia. Eh, i pantaloni di cia. No, quelli sono di mamma. No, mamma mia, mamma mia. Ma è la mia. Ma è la mia. Eh, la tua non c'è perché è separata. No, l'abbiamo separata la tua roba. Facciamo questa lavatrice come? Facciamo la tua, va bene? Io. E laviamo le tue magliette, i tuoi pantaloni. Finiamo di fare questa? Forza, 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 forza. Bravo. Chiudi la vaschetta. Bravissimo. Vai, schiacciamo qua. No. Schiaccia. Bravo. No, solo una volta, amore. Aspetta, eh. Schiacciamo qua. Solo una volta. Solo una volta. Aspetta, eh. Vediamo. No, non è partito. Aspetta. Uno. E rischiaccia qua, amore. Vai. Bravissimo. Stop. Chiudi la porta. Vedi che è partita. Chiudi lo sportello. Eh, adesso è partita. Entra tutta l'acqua. Lava i vestiti. Ma non aprire. Chiudiamo qua e aspettiamo che lava. Bravo. Rieccomi. Sono sempre in sala, però è già sera, sera in ultrata, infatti abbiamo già cenato. Oggi è stata una giornata pazza, pazza, pazza. Infatti non sono più riuscita a filmare nulla, perdonatemi. Come vi dicevo, mille commissioni da fare con mia sorella. Siamo riusciti a fare tutto, ma siamo arrivati a casa tardissimo. Infatti ho messo su cena velocissimamente e adesso mi tocca andare in cucina, finire di pulire la cucina, lavare i piatti, farmi una bella doccia e scappare a nanna pure io. Non so se lo sentite, c'è Dodile in camera che sta provando a dormire, c'è di che sta provando a farlo dormire. E niente, sono venuta qua a concludere il video, a salutarvi, a ricordarvi come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, io sono anaglora91. Come sempre, se questo video ti è piaciuto, mettimi mi piace e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Inoltre vi ricordo che la programmazione del canale è tutti i martedì e tutti i sabati, quindi esce un nuovo video tutti i martedì e tutti i sabati. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!